Sono molto felice di essere in campo per 20 minuti, fare dei movimenti, dei contrasti mi aiutano anche nella testa, diciamo. Piano piano speriamo di rimettermi al più presto. Le sensazioni sono molto positive, appena sono arrivato mi hanno accolto molto bene, il mister mi ha parlato, il prof mi ha parlato. Per me si può fare solo che vieni con questo allenatore, con questo staff, perché comunque sono molto preparati, loro il calcio lo conoscono molto bene perché sono tanti anni che sono nel calcio. Speriamo, speriamo che lo vuole, poi possiamo vedere quello che decide il mister. Io spero di essere almeno pronto, di trovarmi pronto, almeno un 80-90% ce la metterò tutta per esserci, speriamo.